Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il punto di vista sulla singolarità tecnologica di Hugo de Garis. Hugo de Garis nato nel 1947 a Sydney, Australia, esperto di intelligenza artificiale, è un ricercatore in pensione nel sottocampo dell'intelligenza artificiale noto come hardware evolutivo. È diventato noto negli anni 90 per le sue ricerche sull'uso di algoritmi genetici per far evolvere reti neurali artificiali utilizzando automi cellulari tridimensionali all'interno di array di porte programmabili sul campo. Ha affermato che questo approccio consentirebbe la creazione di ciò che definisce, cervelli artificiali, che supererebbero rapidamente i livelli di intelligenza umana. È stato notato per la sua convinzione che sarà quasi inevitabile, prima della fine del ventunesimo secolo, una grande guerra, tra i sostenitori e gli oppositori delle macchine intelligenti e che provocherà miliardi di morti. Ipotizza che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero semplicemente eliminare la razza umana e gli esseri umani non sarebbero in grado di fermarli a causa dell'enorme intelligenza e conseguente potere di questi sistemi, singolarità tecnologica. Nel suo libro The Artilect War, Cosmists vs. Terran, La guerra degli Artilect, Cosmisti verso Terrestri, del 2005, le macchine intelligenti, Artilect o Artiglietti, una forma abbreviata di intelletti artificiali, saranno molto più intelligenti degli umani e minacceranno di raggiungere il dominio del mondo, provocando un conflitto tra Cosmists, Cosmisti, che supportano gli Artilect, e Terran, Terrestri, che si oppongono a loro, entrambi questi termini sono di sua invenzione. Descrive questo conflitto come una guerra di giga death, miliardi di morti. Questo scenario è stato criticato da altri ricercatori di intelligenza artificiale, tra cui Chris Malcolm, che lo ha descritto come divertenti storie dell'orrore di fantascienza che hanno catturato l'attenzione dei media popolari. Kevin Warwick lo ha definito un incubo infernale, come viene rappresentato in film come Terminator. Nella Guerra degli Artilect, Cosmisti contro terrestri, si apre un'aspra controversia sul fatto che l'umanità debba costruire macchine divinamente intelligenti o meno. Il cosmismo è una filosofia morale che propugna la costruzione e la crescita di una forte intelligenza artificiale e di lasciare la Terra ai terrestri, che si oppongono a questo percorso per la sopravvivenza dell'umanità. La prima metà del libro descrive le tecnologie che, secondo lui, renderanno possibile che i computer siano miliardi di volte più intelligenti degli umani. Prevede che memmano che l'intelligenza artificiale migliora e diventa progressivamente più simile a quella umana, inizieranno a emergere opinioni diverse su quanto si dovrebbe consentire a tale ricerca di procedere. I Cosmisti prevederanno un potenziale enorme nell'intelligenza indipendente dal substrato, e quindi ne sosterranno una crescita illimitata nei campi designati, nella speranza che macchine, superintelligenti, possano un giorno colonizzare l'universo. È questa visione, cosmica, della storia, in cui il destino di una singola specie, su un singolo pianeta, è visto come insignificante rispetto al destino dell'universo, che dà i Cosmisti il loro nome. Ugo si identifica con quel gruppo e osserva che, sarebbe una tragedia cosmica se l'umanità congelasse l'evoluzione al misero livello umano. I terrestri, d'altra parte, avranno una visione più terrestre e centrata sulla Terra, in cui il destino della Terra e delle sue specie, compresa l'umanità, sono visti come fondamentali ed irrinunciabili. Per i terrestri, un futuro senza esseri umani, deve essere evitato a tutti i costi, poiché rappresenterebbe lo scenario peggiore. I terrestri non potranno ignorare, la possibilità che macchine superintelligenti possano un giorno causare la loro estinzione. Di conseguenza De Garis prevede che, memmano che l'intelligenza artificiale migliorerà e diventerà progressivamente più simile a quella umana, inizieranno a emergere visioni diverse riguardo a quanto lontano dovrebbe essere consentito procedere a tale ricerca. Poiché queste macchine Artilect, essendo immensamente intelligenti e così inclini alla loro diffusione nel cosmo, potrebbero non avere più remore morali o etiche nello sterminare l'umanità. Quindi, i terrestri avranno una possibilità di sopravvivere solo durante la finestra temporale in cui è possibile disabilitare i futuri Artilect. Prima che siano costruiti, passata questa finestra temporale, gli umani non avranno più voce in capitolo negli affari delle macchine intelligenti. Sotto queste ipotesi estreme che Ugo De Garis ritiene possa iniziare una nuova guerra mondiale, in cui un gruppo con un grande piano, i cosmisti, sarà ferocemente contrastato da un altro gruppo che si sente minacciato mortalmente da quel piano, i terrestri. Le fazioni, potrebbero alla fine fare una guerra all'ultimo sangue per questo motivo, poiché i terrestri arriveranno a vedere i cosmisti come archi mostri, quando questi inizieranno a discutere seriamente dei rischi accettabili e delle probabilità che grandi percentuali di vita terrestre si estinguerà. In risposta a ciò, i cosmisti arriveranno a considerare i terrestri come estremisti reazionari e smetteranno di trattare loro e le loro idee e seriamente, aggravando ulteriormente la situazione, portandola al di là di una possibile riconciliazione. In tutto il suo libro, De Garis afferma di essere incerto su quale punto di vista sostenere e dalla fine sostiene e tenta di presentare casi convincenti per entrambe le parti. Ma verso la fine del libro afferma, che più ci pensa, più si sente un cosmista, perché sente che, nonostante l'orribile possibilità che l'umanità possa alla fine, forse inavvertitamente o intenzionalmente con indifferenza dagli artilect, essere distrutta, non si può ignorare il fatto che la specie umana è solo uno degli anelli della catena evolutiva, e che deve comunque estinguersi nella sua forma attuale, mentre gli artilect potrebbero essere benissimo il prossimo anello di questa catena e quindi sarebbero ottimi candidati per portare avanti la diffusione dell'intelligenza e della coscienza nel resto dell'universo. Egli immagina uno scenario moralmente isomorfico, in cui degli extraterrestri visitano la Terra, 3 miliardi di anni fa, e scoprono che ci sono due domini della vita che vi abitano. Un dominio che è più vecchio ma più semplice e contemporaneamente dominante, ma che a uno studio più attento sembra essere incapace di un ulteriore sviluppo evolutivo, ed un dominio minore che sta lottando per sopravvivere, ma che dopo ulteriori studi mostra il potenziale per evolversi in tutte le varietà di vita esistenti sulla Terra oggi, inclusa l'umanità, e chiede al lettore se si sentirebbe eticamente obbligato a distruggere il dominio dominante di vita per assicurare la sopravvivenza del più giovane, o distruggere il dominio più giovane per garantire la sopravvivenza del dominio più antico e più popoloso che era, comparso per primo. Afferma di credere che, come lui, la maggior parte del pubblico si sentirebbe inizialmente combattuto o almeno ambivalente riguardo allo sviluppo degli artilect, ma che con l'avanzare della tecnologia, la questione si polarizzerebbe e la maggior parte delle persone si sentirebbe obbligata a scegliere da che parte stare. La questione dovrebbe essere sollevata ora, in modo che la società possa scegliere, si spera prima che le fazioni si polarizzino in modo inconciliabile. Ugo De Garis, prevede anche un terzo gruppo che emergerà tra i due. Chiama questa terza parte come cyborgiani o cyborg, perché non si opporranno agli artilect in quanto tali, ma desidereranno diventare essi stessi artilect, aggiornando il proprio cervello umano ed il proprio corpo in continuazione con sempre più avanzati componenti ad alta tecnologia, piuttosto che cadere nell'obsolescenza. Cercheranno di diventare artilect fondendosi gradualmente con le macchine e penseranno che la dicotomia tra cosmisti e terrestri possa essere superata, perché tutti gli esseri umani diventerebbero artilect. Il movimento transumanista viene solitamente identificato come cyborgiano. Il suo concetto dei cyborgiani potrebbe derivare da una conversazione che Ugo De Garis ebbe con Kevin Warwick nel 2000. De Garis riferisce che, solo per curiosità, chiesi a Kevin Warwick se fosse un terrestre o un cosmista, e mi rispose che era contrario all'idea degli artilect. In fase di costruzione, cioè, era un terrestre. Rimase sorpreso ed afferma che ha sentito un brivido risalirgli lungo la schiena. Quel momento gli ha ricordato una biografia di Lenin che aveva letto quando aveva 20 anni, in cui bolshevichi e menshevichi iniziarono a discutere sul futuro governo della Russia. Quella che era iniziata come una discussione intellettuale finì dopo il 1917 con una guerra civile tra russi bianchi e russi rossi, con milioni di morti. Sul New York Times del 1 agosto 1999, parlando degli artilect del futuro, Ugo De Garis ha affermato. Gli esseri umani non dovrebbero ostacolare una forma di evoluzione più elevata. Queste macchine sono simili a divinità. È destino umano crearle e credo che i disaccordi ideologici tra questi due gruppi su questo tema saranno così forti, che una grande guerra, che ucciderà miliardi di persone, sarà quasi inevitabile prima della fine del ventunesimo secolo. Ed immagina che tra vent'anni, l'industria dei cervelli artificiali sarà una delle migliori industrie del mondo, paragonabile a quella del petrolio, delle automobili, delle costruzioni, ecc. In definitiva Ugo De Garis è convinto, e con lui molti scienziati che lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale, che lo sviluppo tecnologico, in pochi decenni, porterà alla creazione di esseri artificiali miliardi di volte più intelligenti degli esseri umani e che molti di loro, privi di scampo, serviranno e adoreranno come divinità queste super intelligenze artificiali. De Garis prosegue dicendo che tutto questo condurrà a una guerra di proporzioni incommensurabili tra cosmisti, cioè gli umani che si metteranno al servizio di queste intelligenze artificiali, da lui definite Artilects, e i Terran, cioè gli umani che proveranno a opporsi sin da subito a questo progetto. De Garis immagina una guerra combattuta inizialmente tra Cina e Stati Uniti, con una Cina destinata a diventare sempre più forte, fino a far scomparire gli stati nazione. Lui stesso si schiera con i cosmisti anche se prevede che gli Artilects, in quanto infinitamente più intelligenti e potenti di noi, ci lasceranno autodistruggerci senza troppi rimpianti e sensi di colpa. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e dalla prossima. Grazie a tutti.